Da qui si va alla città dei Goron. Devo cercare di ottimizzare la sintonia tra il campione Daruk e il suo colosso sacro. È già riuscito a pilotarlo con successo, ma ci sono ancora troppe cose che non sappiamo. Quel colosso è stato costruito da persone come noi. Vuol dire che possiamo capire come funziona e usarlo al nostro vantaggio. Sì, sta a vedere. Con quel colosso riusciremo ad annientare la calamità Ganon. Io ne sono convinta. Dimmi la verità. Sei davvero così bravo come dicono a usare quella spada. E la voce che è già dal suo interno. Riesci a sentirla.